Grande partecipazione per il gran gala di carnevale svolto sabato 8 febbraio alla palazzina Sabatelli. Vamos alla fiesta, tema spagnolo, ha registrato tutto esaurito garantendo una festa all'insegna del divertimento. Quest'anno abbiamo centrato veramente sia l'argomento, la festa è iniziata subito alla grande sin dall'inizio, tutti gli ingredienti per una meravigliosa festa di carnevale, unica, bella e irripetibile. Amici, ciao a tutti e buon carnevale! Il gran gala ha avuto come protagonisti diversi performer che hanno messo in scena una vera e propria corrida, con diversi dilettanti allo sbaraglio, ma anche una special guest a sorpresa, Bicio, l'antidepressivo naturale. Ora io vengo da un paesino piccolino dell'entroterra pesarense, lo sapete, Mercatello sul Metauro. Il paese è piccolino, ma talmente piccolo che quello che succede la gente lo sa il giorno prima. E questo è il dialetto di Mercatello. Stamattina la bimboi si è sveglietta, si è messa davanti a specchie, a tacchetta di guardare i cricci che c'ho, quanto brutta, quanto vecchia. La festa di carnevale è poi proseguita da coreografie di danza della New Latin Academy. L'evento è stato animato dalla musica dell'orchestra Balla Onda e a tarda serata torta offerta dalla pasticceria Cavazzoni e Dolci di Carnevale. Sei bellissima, sei bellissima.